ciao amici di musicultura ciao a tutti e congratulazioni ai finalisti anch'io ho partecipato come voi pochi anni fa a questo festival nel quale ho riscontrato una grande professionalità una grande attenzione verso l'ascolto e soprattutto ho avuto l'opportunità di esibirmi allo sferisterio di macerata che è uno dei luoghi più incantevoli e belli secondo me di questo nostro paese devo dire che mi ha portato anche molta fortuna perché quest'anno grazie a dio potrò cantare la mia canzone sul palco del festival di sanremo ecco detto questo volevo farvi i miei auguri e spero di vedervi presto grazie musicultura viva la buona musica viva la vita ciao